Si rinnova l'appuntamento annuale con la grande arte al Forte di Belvedere di Firenze. I bastioni dell'antica Fortezza Medicea ospitano le opere di Jan Faber, uno degli artisti più innovativi e rilevanti del panorama contemporaneo. Artista totale, Faber, nato d'Anversa nel 1958, sprigiona la sua immaginazione nei diversi linguaggi della scultura, del disegno e dell'installazione della performance e del teatro. Del resto veniamo da una mostra, quella di Anthony Gormley l'anno scorso, che ha avuto una risposta straordinaria da parte dei cittadini, dei visitatori. I motivi sono molti. Primo è che il fatto che noi organizziamo questa mostra al Forte Belvedere rappresenta un valore aggiunto anche per i nostri cittadini e per questo abbiamo deciso di prevedere l'ingresso gratuito al Forte, non solo per la durata della mostra, ma anche come regola ordinaria per tutto l'anno. Sapete del voto recente in Consiglio Comunale su nostra proposta. Ma inoltre anche perché Firenze è diventata, grazie a questo nuovo rinascimento, il vero laboratorio di incontro tra linguaggi artistici di epoche e di generazioni diverse. A Firenze in questi anni stanno venendo i più grandi artisti del mondo, viventi, Jan Fabre è uno di questi, per misurarsi con i valori, concetti, linguaggi dei grandi artisti dell'umanesimo e del rinascimento.